Musica Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Questa oggi mi trovo in macchina Direzione al Curzio Non chiedetemi dov'è perché non so dove sia E sono con, presentati Giorgio La truccatrice Ilaria E il guidatore Giorgio E io morirò Cioè inizio subito con morirò Non vi dico nient'altro E vedrete dopo In retroscena Ciao ciao E tra l'altro no, fada che Sono nel backstage del Del film E niente Guardate che piccata Scusi E niente E niente E niente E niente Quindi tanto non posso E a me Ma tu fossi Spiccone E Bene Aiuto Buon 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 adesso andrò a mangiare, non posso dire, loro fanno fatte dell'esercito tedesco Saluta Chiara! Hola! Si stanno baciando i tedeschi ma è hola! Abbiamo appena girato due tre scene, sono molto divertita anche se lo farò molto la sera perchè si parla della seconda guerra mondiale e fame! Ti compagni oggi quanto sei sexy Aurelio! Saluta! Buongiorno! Sennò più di una venere delle scatole che ci metti dentro la macchina Massone e carino! Ci metti dentro la macchina e i bicchieri Full HD ovviamente! Salutate un po', fatti i bravi bambini Andare! Andare! Possiamo passare adesso? Sono un amante di Matti ma mi sto divertendo troppo, tantissimo! A mangiare, a mangiare, a mangiare! Stiamo continuando a girare le riprese Siamo stanchissimi ma ce la possiamo fare Questo è il secondo set Fa freddissimo però è bellissimo! Non so quanto riesci a vedere perchè è come si dice sta andando giù il sole Lì nell'arca ci sono tedeschi No, allora no, c'erano così Allora, dopo quando passiamo il resto delle mesi che faccia Lui lo mando a fare i primiziani dei tedeschi che spavano la cucina Ah ok Allora però quelli che sono di perché ne volevo mettere uno di qua Qua deve far morire qualcuno Eh va bene! Chi muore? Chi muore? Sì? Ehm... Chi muore? Chi muore? Chi muore? Chi muore? Chi muore! Chi muore? Chi muore? Allora muore. No, dico Vabbè, tanto era nel tuo progetto, no? Cosa fai io? Ci vuole! La cassetta famosa! Ma vai! Quella cassetta di te ne un'icolo Ma lei prende quella Se non ho questo non più, sei nato in cane Ma mi hanno indotto Su il mio canale YouTube, faccio il backstage. Non è come questa. No, no, però... Abbiamo un'altra camera. Se vieni malissimo. Contro il sole. Lo facciamo a tre anni. Guarda, guarda. Devo montarla. Sì. Però non hanno niente che fare. Sì. No, lascia perdere. In post lo mettiamo. Ok, dai. Occhio che non ci vede niente di dietro. Voi no. Ascolta, io ho il boccalino di sale oro. No, no, ma fai finta di... esatto. Dove è Aurelio? Ah, sei lì. Aurelio, io però lì non ti vedo. Aspetta un attimo. Dei soffrati la droga. Perché sono ritardata, la droga. Aspetta di manica di capri. Mettere di via di stranetti militari, eh. Che cazzo di talloni li vogliamo appiattire a terra? Matteo, Matteo, come ti metti la tua squadra? Uff, è termina qui la prima giornata di riprese, domani la seconda. Allora me ne andrò a dormire. O meglio, mi laverò la faccia e me ne andrò a dormire. Vi faccio vedere intanto la mia stanza, l'albergo. Questa... Ciao, sono io. E due letti, che qua ci dorme un'altra ragazza. La tv. E... Il bagno. Semplicissimo bagno. Ciao, ciao. Domani abbiamo la sveglia alle sette e mezza. E alle nove... E alle nove saremo operativi, già in abito storico, per girare le ultime scene, l'ultima giornata di riprese. E sì, domani morirò. Io... Vi do la buonanotte. Ciao, ciao. E a domani. Vogli assumirla, sai?